a San Patrignano. Cosa è successo a San Patrignano? Pronto? Dacci dei segnali. Eh, ho detto pronti. Vai. Via. Cosa è successo a San... Siamo in diretta? Pronto? 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 Cosa è successo a San Patrignano? Pronto? Siamo dal vivo, Doris? Sì, Jacopo, da 5 minuti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, cosa è successo a San Patrignano? Oh, è arrivato sullo schermo dell'informazione nazionale il caso di Sampa, questa serie, questo documentario, peraltro veramente eccezionale, che a me ci ha costretto a vedere con delle minacce per poterne parlare stasera. Quindi siamo qua con Ilaria Fontana alla quale passo la parola per aprire questa conversazione, questo salotto psicologico del lunedì che oggi avviene di mercoledì, perché noi ce ne preghiamo, facciamo delle edizioni straordinarie. Vi ricordo che qui sopra, poi nel testo, troverete tutte le puntate di questi lunedì psicologici, perché in realtà ne abbiamo fatti tantissimi, tra cui un altro sempre con a meia, che è nostra graditissima ospite. A te studio, passo, non solo lo studio, perché lo studio è Doris Corsini, che è la nostra filosofa di riferimento. Passo la parola a Ilaria. Allora, prima di tutto, buonasera a tutti. Grazie di essere con noi, perché se ci stiamo vedendo di mercoledì è solo grazie a voi che ci state seguendo e quindi c'è partecipazione, c'è entusiasmo e lunedì si è moltiplicato ed è diventato anche mercoledì e domani anche giovedì. Quindi prima di tutto grazie. Se spieghiamo che domani sera c'è una diretta. Perché domani sera ci sarà un'altra diretta. Quindi questa è una grande settimana, molto ricca, ricca di conversazioni e di scambi. Domani parleremo di alimentazione. Oggi invece parliamo di dipendenze e non solo, partendo da questa serie che parte a sua volta da un fatto storico. Sono pochissimi giorni, saranno due settimane circa, che è partita su Netflix. Questa serie si chiama Sampa e da questa noi prendiamo lo spunto per allargare l'argomento e affrontare vari temi. Ed è per questo che vi rimando l'idea, ormai una buona abitudine, di scriverci che cosa vi fa venire in mente la parola dipendenza. Quindi Doris per cortesia poi rimandaci questi feedback e queste parole, no? E adesso passiamo subito la parola all'ospite d'onore che è meia che ti muovo con noi. Grazie. Grazie a voi, grazie. Intanto buon anno a tutti, buon anno a Jacopo, Ilaria, Doris. E questa idea di questa serata è nata un po' così scambiandoci dei messaggi un po' così random. È l'argomento del momento, no? Questa è molto dibattuta, questa docu-serie, docu-film che è comparso su Netflix, Cinque Ore, un tuffo nel passato. Io ho insistito ieri notte ci siamo sentiti con Jacopo a mezzanotte e mezzo e gli dicevo guarda però bisogna guardarla questa serie perché per parlarne, perché io ho un po' di allergia a quelli che scrivono i commenti dire io non ho visto il film però... Allora, se parliamo di questo, parliamo di questo e poi parliamo pure di tante altre cose, però partiamo da questo che è l'argomento caldo, no? Questa serie che non è tanto incentrata sulla dipendenza quanto la figura del demiurgo, del deus ex machina, di questa figura controversa, luce e ombre di Vincenzo Muccioli. Questo docu-film è, come ho scritto sui miei social, è costruito un po' con la tecnica del coro greco, no? Ci sono delle testimonianze limitate perché le voci narranti sono Fabio Cantelli che era l'addetto stampa, un uomo molto affascinante, molto ipnotico, che era l'addetto stampa di San Patrignano, poi c'è il braccio destro, l'allora autista, altra figura molto controversa che era Walter De Logu, poi c'è questo medico Boschini, Antonio Boschini, che ha la voce un po' nostalgica, è l'unica voce che si inchina all'operato di Muccioli. E poi c'è il figlio che ne parla quasi come una voce meno venerante degli altri. E poi ci sono i filmati d'epoca, no? Che ricostruiscono un po' uno spaccato della storia italiana di quel periodo e ricostruiscono la figura di questo uomo, di questo eroe e tiranno allo stesso tempo, che è Vincenzo Muccioli. Amelia, che cosa ti ha colpito mentre lo guardavi? Perché in effetti fa molto e di grande impatto, non solo per come è stato costruito e girato, ma anche per quello che viene detto. Mi viene la curiosità di chiederti che cos'è che ti ha colpito a primo acchietto proprio, mentre guardavi. La figura del padre, Ilaria, la figura del padre di questo uomo che ha abbracciato così tanti giovani, che si è improvvisato. Diciamolo chiaramente, almeno io voglio chiarire la mia posizione. Io non sono né a favore né contro questo docufilm. Io prendo atto, l'ho guardato con interesse e credo che bisogna circostanziare, no? È una ricostruzione di un qualcosa che è accaduto alla fine degli anni settanta, a scavalco. E là va collocato, perché adesso sarebbe impensabile, Ilaria, a costruire una comunità di recupero senza un esperto, un psicologo, un assistente sociale. Cioè è stato tutto improvvisato intorno alla figura carismatica di questo personaggio, che ha sostituito per me la frase di Paolo Villaggio, che allora aveva dichiarato, no? Questo uomo ha le palle per imporsi e dire dei no che noi genitori della Beta Generation, dei genitori progressisti, non hanno avuto coraggio di dire. A me è venuto in mente Pietro Polli Charmé, con tutta la sua disamina della figura del padre patriarcale degli anni cinquanta e il padre degli affetti, no? Lui è una figura a scavalco, perché prometteva iniezioni di amore e poi dava pure, no? I ceffoni contenitivi. Io non credo che siamo qua per giudicare nulla, no? Ma per riflettere a ritroso su un qualcosa che è accaduto e che aveva senso in quegli anni, perché adesso sarebbe assurdo. Sono d'accordo con te sul fatto che non siamo qui per giudicare, anche perché sarebbe un po' noioso e non aprirebbe la mente a delle connessioni. Siamo proprio nel confronto, non solo tra di noi, ma soprattutto anche con le persone che ci stanno seguendo in questo momento. Tu dici, mi ha colpito la figura del padre. Come lui ricopriva questa figura del padre, in fondo, no? A un certo punto diventa padre di centinaia di persone che cercano da lui una soluzione, una risposta, un'accoglienza, un sostegno, un contenimento, cercano tante cose. Io mi sono chiesta che cosa cercasse lui in queste persone che andavano a chiedergli aiuto. Mi ha morto colpito. Sì, è un po' esplosa in mano la situazione, no? Lui nasce, ci sono tinte anche esoteriche intorno al suo personaggio. Lui nasce come questo demiurgo di questa comunità, il Cenacolo. Lui si occupava di parapsicologia, che è un termine che oggi giorno non si usa quasi più, no? Era più un termine degli anni Ottanta. C'è qualcuno ancora, eh? Parapsicologo, vabbè. E quindi lui pare facesse queste sintone, si imponeva le mani e ok, no? E avesse così questo dono di guarire. E poi si è ritrovato in mano, no? Cioè una Ferrari senza patente. Perché mi sembra un contadino ruvido che si è improvvisato guaritore e che si è improvvisato terapeuta e che si è improvvisato assistente sociale. È una figura che più tu la guardi, più come un caleidoscopio si moltiplica, no? Io non ho le competenze e le conoscenze per giudicare, Jacopo, che cosa è successo a San Patrignano. Guardo con interesse a ritroso, perché le cose si vedono meglio da lontano. Di sicuro qualcuno ha paragonato questa ricostruzione alla comune di Osho, di Wild Wild Country, no? E ogni volta che c'è una figura così accentratrice, succedono gioie e dolori. Chi siamo noi per dire? Quello che invece ho sentito come un disappunto di molte persone che hanno adesso... Io ho una paziente a cui ho chiesto il permesso di citarla in modo anonimo, la sua storia, ha un fratello che ora è a San Patrignano. Lei, come molti altri, si è sentita molto ferita da questo tipo di ricostruzione. Perché il San Patrignano di adesso, da quello poco che ho capito, l'ho visitata anni fa, non ha nulla più a che fare con quegli anni. Quindi io immagino che chi ora gestisce questa comunità terapeutica si dissoci, perché i metodi non sono più quelli. Quindi io credo che l'intento del documentario non fosse discreditare la comune adesso. Quando chiude dicendo San Patrignano esiste ancora, esiste in un'altra forma. Certo, quella è storia. È un racconto di ciò che è avvenuto ed è dal passato che bisogna imparare per migliorare e tenere ciò che è stato buono, ma cambiare ciò che non lo è stato. Quello che mi ha molto colpito mentre guardavo era proprio questa figura, questa dinamica di accentratore, di tuttologo. Credo che troppe volte, per la buona intenzione di fare del bene, poi non ci si chiede se stiano gli strumenti per farlo. Questo era uno dei moniti dei miei maestri della scuola di specializzazione. Aiutare è bene, saper aiutare è un'altra cosa. L'eccesso di aiuto poi ottiene l'effetto contrario, no? Però io vorrei chiedervi, visto che siete del mestiere, di parlare un attimo sul meccanismo per cui queste persone diventano dei leader carismatici, dei padri virtuali, perché in realtà quello che noi abbiamo assistito a San Patrignano e viene fuori anche molto bene dal documentario, è che veniva idolatrato, nonostante lui avesse dei comportamenti violenti addirittura in pubblico. Cioè arrivava a schiaffeggiare davanti a tutti dei ragazzi e delle ragazze e anzi lo dichiarava. Diceva io se ci sono dei problemi tiro i ceffoni, quindi non è un'accusa. Lui abbiamo nel documentario almeno tre, quattro punti in cui lui spiega perché se tu devi salvare una persona che si butte da un ponte non puoi farlo in maniera pacifica chiedendogli scusami per favore, non suicidarti, devi afferrarlo, buttarlo per terra, eccetera. Ecco, io su questa cosa vorrei parlare nella seconda parte di questa diretta, però mi sembrava molto affascinante il discorso che tu avevi proposto proprio sul meccanismo di dipendenza. Sia tu che Ilaria vi siete occupati di dipendenza affettiva e questo è un caso di dipendenza affettiva secondo me extra coppia, cioè extrasessuale, cioè diventa una dipendenza affettiva collettiva. Una piccola nota, io chiedo alle persone che ci stanno seguendo di condividere, non di mettere i like, di condividere questa diretta e poi andrò a vedere chi fa i commenti positivi, perché vengo sulla vostra pagina Facebook, e poi chi non ha condiviso facendo dei commenti positivi è un traditore e farò delle cose terribili, non come quelle di Muccioli, ma verrò sotto casa e vi lancerò addosso delle rose rosse così imparate a essere disonesti. Sempre pacifico, però efficace. Pacifico, ma efficace. Allora, Amea e Ilaria, parliamo un attimo di questo argomento, ci entriamo nel vivo della questione, perché una persona diventa un punto di riferimento totalizzante nella vita di, loro dicono addirittura, 20.000 persone, poi si discute su questi dati, ma comunque 22.000 persone avrebbero riconosciuto Muccioli come un'autorità terrena. Beh, perché lo diventi, non credo che ci sia una risposta unica, sicuramente tutte le persone che hanno chiesto aiuto, soccorso, alloggio, a Muccioli, forse avevano qualcosa in comune, avevano le loro differenze, avranno avuto le loro singole motivazioni, però avevano qualcosa in comune, che io credo potremmo chiamare un grande vuoto, anche una grande angoscia, che poi è quella che, diciamo, si può riscontrare nelle persone che fanno uso e consumo di droghe, di alcol, di tutti i tipi di dipendenze, in fondo. Nel momento in cui c'è un vuoto, c'è un grande dolore, che non si riesce a comprendere, ma scava, fa il suo lavoro, e questo porta un senso di impotenza molto forte, anche di panico, che faccio, come lo gestisco, sento qualcosa ed è devastante per me, mi devasta così tanto che mi schiaccia, che non sento di avere i mezzi per riuscire a farcela, e allora trovo un appiglio, un appiglio nella dipendenza, che non è affatto una soluzione, ma in quell'istante sostituisco un dolore con un altro, diciamo, e quello mi dà la sensazione che sento un po' di meno, come una suefazione. Purtroppo diventa un meccanismo distruttivo, che non fa altro che aumentare di più le difficoltà, i dolori, e quindi diventa una trattola. In questo vuoto c'è un po' la ricerca del salvatore, salvami, io non ce la faccio a salvarmi da solo, salvami tu, tu che dici che ce la fai, che aiuti le persone, che dai amore, che dai siringhe di amore. Questa è un'espressione che mi ha colpito tantissimo quando l'ho sentita, perché l'ho trovata violenta in realtà, parlare d'amore dicendo diamo siringhe d'amore mi ha dato una percezione anche di violenza, e quindi l'ho trovato strano, ma come si fa a dare l'amore attraverso una violenza, attraverso un'intrusione così invasiva, perché la siringhe è invasiva, no? E quindi in questo è come se ci fosse uno scambio. Io cerco il Messia, per questo mi chiedevo, chissà questo Messia che cosa cercava poi in queste persone, perché io ho visto un enorme aggancio. C'è stata una frase che a un certo punto lui ha detto, che addirittura mi sono segnata, che è stata, io non ho più vita privata, do tutto di me a queste persone, tanto che non ho più la vita privata. Ecco, e allora stiamo parlando di confini, cioè in questa dinamica relazionale io ci vedo una reciproca dipendenza in cui il confine si perde totalmente nella relazione, non c'è vita privata, non c'è più un nesto tra che cosa è consentito e cosa no, perché addirittura se scappo ti riprendo e ti metto nella cella. Diventa molto caotico. Quindi credo che in questo tutte e due le parti cercassero di compensare qualche cosa. I ragazzi, le persone che cercavano aiuto, cercavano di compensare un dolore, una carenza molto probabilmente, ma io credo che anche lui cerca di compensare qualche cosa, con lo stile di vita che poi ha costruito. Non so tu che ne pensi, Amea. Io credo che bisogna stare molto dentro al periodo storico in cui Muccio gli ha fatto la sua ascesa e la sua caduta. E mentre tu parlavi mi è venuto in mente il saggio di Feuerbach, l'essenza del cristianesimo, per rispondere anche a Jacopo, perché noi permettiamo a dei personaggi di diventare come Dio. Nel saggio L'essenza del cristianesimo, Feuerbach sostiene che l'uomo ripone nell'idea di Dio tutto ciò che di migliore sente di avere dentro di sé, ma lo mette là. Quindi è insito nell'uomo questo bisogno di idealizzare, no? Quindi Muccioli all'epoca rappresentava un padre che non esisteva, non solo dentro le famiglie, perché era il padre peace and love, no? Erede degli anni settanta, degli anni sessanta, ma il padre degli affetti, il mammo, ma rappresentava anche un padre che mancava nel tessuto sociale, era un tessuto sociale sfaldato. E lui che era a scavalco di due epoche storiche, che si trascinava dietro la non paura dell'autoritarismo, lui non aveva paura di fare il duce, no? E quello che invece avevano perso tutti i padri e tutta la società. E lui incarnava questo contenimento d'acciaio e chi ha una dipendenza delega, perché io studio le dipendenze da anni e non credo che ci sia differenza all'origine tra un dipendente dall'eroine e un dipendente affettivo. L'effetto sarà ben diverso, ma tutte le dipendenze hanno lo stesso cappello, che è un buco affettivo. Poi, se tu sei dipendente dal lavoro, farai tanti soldi e sarai un bravo padre di famiglia. Se tu sei dipendente dallo sport, avrai un fisico eccellente, una salute di ferro. Se tu sei dipendente dall'eroina o dalla cocaina, avrai un effetto diverso. Ora, quel tipo di tossicodipendente non avrebbe più una sua collocazione nella società di adesso, no? Apparivano tutti imbambolati, tutti trascurati nell'aspetto. Come degli zombie, no? Come degli zombie. Aiutami tu, perché io sto troppo male. E quindi aiutami tu, aiutami tu, aiutami tu. In famiglia non c'era una sponda contenitiva. Moccioli si è preso l'onere e l'onore di fare da, così, da diga. Ha questa problematica immensa, ma ci è rimasto in mezzo. Gli è scappata di mano, gli è spungito. Tant'è che il sottotitolo di questa docuserie è quanto male sei disposto a fare per fare del bene. Quello che io invece sento, no? Adesso a San Patrignano curano dipendenze ben diverse, dall'eroina, all'alcolismo. E comunque quello che è rimasto costante è il lavoro, no? Il dare un impegno e portare le persone verso una creatività. Mentre invece i metodi coercitivi sono via via, sono macronistici. Io credo che lui non sapesse come fare, davvero. Sembrava anche lui, per i suoi tempi, sembrava un uomo degli anni del benvenio, no? Lui la sua figura, le sue modalità. Io non, cioè, credo che lui abbia fatto tanto bene e tanto male. Dipende con che lente lo guardi. Io sarei curiosa di sentire persone che sono state, che si sono salvate lì. Perché io non lo so se ci sono testimonianze a lungo termine, no? Perché ora le comunità hanno un'efficacia nel breve termine. Però bisogna vedere nel longitudinale se permane lì. Non modificavi la radice del che cosa ti portava a cercare un padre dentro la droga, un padre dentro Muccioli, no? Lì ti costringevano ad astenerti e ti instradavano in un lavoro. In un modo un po' rudimentale. Io credo che il lavoro sia sicuramente una grande risorsa, ma non solo il lavoro proprio inteso come lavoro che ti permette di guadagnare e quindi di campare, ma anche tutto ciò che è creativo, che ha un riscontro concreto delle tue forze e delle tue energie. Il lavoro nei campi, al di là del fatto che richiede dei tempi, uno sforzo e si può anche dare un rientro economico. Ma soprattutto è gratificante perché tu vedi nascere qualcosa, così come tante altre situazioni creative, no? La costruivano anche, dipingevano, facevano tante cose. La comunità è bellissima e fanno un sacco di cose molto interessanti e producono e puntano sui linguaggi espressivi, creativi. E questo credo che sia davvero da riconoscerli. Quello che è stato, secondo me, va tenuto distinto. Quello che era la personalità dell'eroe o del tiranno Muccioli, da il prodotto che si è evoluto negli anni. Perché farebbe una grande ingustizia a fare di ogni, di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Doris che diceva... Ariella ci sta dicendo, San Patrignano di una volta, è un po' come la pandemia adesso, che nessuno sa cosa fare. Cioè, San Patrignano è arrivato in un momento in cui nessuno sapeva cosa fare della droga. Adesso noi, con la pandemia, non sappiamo cosa fare. Però dice, il meno male che c'era. Ed è vergognoso che il meno male che c'era San Patrignano. Con il bene, con il male. È l'unico che però, in quel momento, ha fatto qualcosa. Ha parannato il momento che stiamo vivendo noi adesso le incertezze del vaccino con quelle che c'era nel momento. Lì, Jacopo, che l'ha vissuto un po' di più, sei d'accordo? No, perché non è così. Cioè, San Patrignano, proprio in virtù di questa politica coercitiva, ricordiamo che ci sono stati dei morti ammazzati, ricordiamo che Muccioli ha ammesso, e ci sono tutte le documentazioni in questo documentario, di aver coperto un omicidio, sapendo chi era stato il responsabile. Ci sono state torture, c'è stata una ragazza che si è suicidata dopo che le hanno fatto delle cose inenarrabili, stupri da parte dei caporali, diciamo, dell'organizzazione di Muccioli. Ma dobbiamo anche ricordare che contemporaneamente c'erano delle comunità in Italia che hanno avuto un successo incredibile in termini di recupero, come ad esempio le comunità di Don Gallo, che io ho conosciuto indirettamente perché ci sono andati dei miei amici, e che erano invece delle comunità impostate completamente in maniera diversa sul rispetto, sulla scelta e su un accordo, cioè tu te ne vai e non torni più qua, però io non ti incateno, cerco di aiutarti a costruire un ragionamento di responsabilità. Da questo punto di vista io credo che ci sia un grosso imbroglio su San Patrignano. Innanzitutto il documentario dà tutta una serie di informazioni che portano a capire che i dati delle ricerche erano falsati, cioè loro avevano il 70% di successi su un campione di 700 persone che avevano scelto loro per fare lo studio, quindi è una cosa ridicola e tanti altri particolari, chi vorrà guardarsi il documentario li vedrà. Ma è proprio il discorso di base che è un grande non risoluto, diciamo un grande punto di scontro nella nostra cultura. Per educare i bambini, per formare degli studenti bravi e poi dei professionisti capaci, devo usare il pugno di ferro, devo usare la punizione, il brutto voto, la bocciatura, o c'è un'altra cosa che è la passione. Io non ho mai subito castighi nella mia famiglia, ma mi rendo conto che questo ragionamento assolutamente non va giù. Non si capisce come sia possibile superare delle difficoltà senza imporre quello che è giusto con la violenza. Ecco, io posso dire che noi abbiamo lavorato, io ho lavorato a Alcatraz per anni con ragazzini criminali, ma criminali veri e con tossicomani, su una base di rispetto. Mi è capitato di dover intervenire fisicamente, perché in certe situazioni non puoi non bloccare fisicamente una persona che sta per farsi del male, ma quello che avveniva era immobilizzare la persona, metterla a terra, sedersi sopra, continuando a sorridere, a essere gentile e mai in nessun caso provocare dolore. Noi avevamo a Alcatraz delle persone, ricevevamo dei soldi dalla ASL, perché erano appunto tossicodipendenti o persone con altre storie altrettanto tragiche, e il lavoro che loro facevano veniva pagato in regola. Allora, cosa che non avveniva a San Patrignano, dove la gente lavorava e non veniva pagata, non aveva nessun riconoscimento, ed è un meccanismo diverso. Poi, certo, ci sono state le persone che, nonostante Alcatraz fosse un luogo d'arte, di musica, di cose belle, di cibo straordinario, oltre che biologico, eccetera, eccetera, se ne andavano e quelli non tornavano più. Io ho avuto degli scontri con delle madri che dicevano ma come, se ne è andato una sola volta. No, qui c'è una regola diversa. Tu, se te ne vai una volta, non torni più. Il problema è perché strutture come la nostra, strutture come quelle di Don Gallo e tante altre, non sono state assolutamente appoggiate dal potere, e si sono fatte scelte invece di quelli che usavano la frusta per la scossa elettrica per i maiali sui ragazzi che erano indisciplinati, perché, attenzione, bastava una critica a Muccioli per beccarsi le botte. Questo è il problema. Questo è la grande questione ed è il motivo per cui io a un certo punto ho smesso di lavorare con i tossicomani perché non era possibile, non si trovava un modo per creare delle situazioni che poi si consolidassero nel tempo. Il nostro progetto che presentammo a Destra e Manca era quello di creare una serie di case autogestite via via che i ragazzi passavano i primi due anni di normalizzazione e, tra l'altro, questo veniva fatto poi con l'appoggio di tutta una serie di tecniche, dallo yoga alla meditazione, diciamo, esperienze anche dal punto di vista del percorso di psicologia, di ricostruzione di certi meccanismi. Io credo che sia molto grave che oggi personaggi di un certo tipo sostengano che Muccioli era l'unica soluzione e anche questa persona che dice c'era l'emergenza. C'era l'emergenza? Sì, certo, c'era l'emergenza, ma all'emergenza abbiamo risposto in due maniere, completamente diverse. Hai detto tantissime cose. Rispetto alla coesizione, hai parlato anche dei bambini, no? Io lavoro con i bambini, con i genitori, le punizioni non funzionano. Cioè, in realtà, funzionano eventualmente sul momento, ma è un divieto che poi non ha delle radici molto lunghe. Se non viene affiancato da quello che poi è anche una spiegazione, il passaggio del messaggio, una responsabilizzazione, non serve proprio a nulla. Ma comunque non serve, perché comunque è un atto di violenza in cui non riconosce al bambino dei mezzi, soprattutto non gli riconosce una feducia, e gli impuni un qualcosa di diverso, che non implica un ascolto. Allora, quello che funziona nelle situazioni è proprio contenere, che è ben diverso dal punire, è contenere, è mettere dei limiti. E sicuramente c'è bisogno di una certa tempra poi per mantenere anche quei limiti, quei confini. è difficile tante volte responsabilizzare, far vedere le cose come stanno, anche in un futuro, le conseguenze, passare un messaggio, e soprattutto coinvolgere la persona in quel problema, in quel caso il bambino, ma gli adulti. Se io detengo la soluzione, se io detengo il potere, c'è sempre una disparità nella relazione, non siamo alla pari. Io sono la saggia, tu sei quello che in questo momento sei poverino, non capisci e mi devi seguire. Ma se poi non c'è un passaggio della conoscenza, c'è per forza anche una dipendenza relazionale. Ad esempio, quello che si era creato, mi sembra che comunque, almeno per me, assomigliava a una sorta di atollo in mezzo al mare. Cioè, San Padrignano è diventato un'isola protetta, dentro la quale funzionavano anche delle regole, e dentro la quale le persone riuscivano a mantenersi anche pulite. A un certo punto, nel documentario, fin da subito in verità, si vede che chi si comportava bene aveva il diritto di uscire, ma appena si usciva cadevano nella tentazione. E qualcuno dice che stesso i ragazzi a un certo punto gli chiedevano, gli dicevano, ma Vincenzo, noi siamo dipendenzi, non puoi farci uscire, perché sennò è ovvio che cadremo di nuovo nella dipendenza. Non farci uscire più. Io ci vedo un mondo dietro questa dinamica, veramente ci vedo un mondo. Cioè, anche un... non sono in grado, perché io possa rimanere fuori dalla mia dipendenza, devo rimanere in questo mondo isolato e anche un po' vattato che diventa un atolo in mezzo al mare. Se poi rientro nella realtà, non ho i mezzi per confrontarmi con quello che è poi il mio dolore, che mi fa rifugiare poi nella droga o nell'alcol o in tantissime altre situazioni di dipendenza. Allora, qual è la soluzione? Qual è la risposta? Privare? Punire? Isolare? Ma forse funziona sul momento, però poi allora non possiamo rientrare nella realtà. Forse se dobbiamo rientrare nella realtà dobbiamo passare degli strumenti perché quella persona possa crescere, possa evolvere, possa sganciarsi da una dipendenza, altrimenti diventa solo una sostituzione. Sostituiamo la dipendenza dall'eroina o dalla droga o dall'alcol con un'altra dipendenza che è la dipendenza dal Messia. E io non sarò mai in grado di camminare realmente da sola poi. Non so tu che ne pensi, a meia. Vorrei riprendere sia il discorso che hai fatto tu ora, Ilaria, e quello che faceva precedentemente Jacopo, che ho ascoltato con molto interesse perché è un testimone diretto del tempo. Ilaria, credo che tu sia molto giovane e quindi ragioni in maniera molto attuale. Jacopo, sebbene fosse presente allora, aveva già allora un pensiero che era più lungimirante. Lungimirante. Sì, più evoluto, Jacopo. Ma quello che io vorrei riportarvi là è osservare con occhio clinico a ritroso, no? Che quello che è accaduto lì dentro girava attorno alla figura di questo uomo che tu hai definito Messia. Attenzione, occorre immaginare qual era la priorità. La tua priorità è quella di Alcatraz, Jacopo, non era quello di apparire come il risolutore, il mago che uscì, no? Che tirava fuori il coniglio dal cappello. Tu avevi un altro intento. Osserviamo qual era la priorità allora. E davvero, io ci riporto a scindere ciò che era il San Patrignano di allora era incentrato sulla priorità di questa figura. Tu dici, Jacopo, come mai è andato avanti quel progetto piuttosto che altri progetti? Io non vorrei portare il discorso sugli appoggi politici, ma questo è evidente che è accaduto, Jacopo, cioè c'erano degli appoggi, cioè perché ci sia un'ascesa di un uomo accentratore, occorre che ci sia un contorno che lo supporta, un contorno fatto allora di disperazione, di popolarità e di appoggi, che io non ho le competenze per valutare e nemmeno voglio portare il discorso su quello, ma dobbiamo tenerlo presente. Le priorità di allora mi sembrano, hai presente quando vuoi far vedere che una cosa funziona a tutti i costi? occorre osservare qual è la priorità di chi porta avanti che cosa. La priorità mi sembra allora che questo uomo portasse avanti i propri metodi senza un contraddittorio che poi ha pagato con una discesa veramente a picco, ha pagato tantissimo. Quindi io credo che occorre guardare semplicemente come un esperimento, un Dio che fa lì e tenere però ciò che di buono cioè tutta la bellezza che è stata costruita intorno a questa comunità, tutta la produttività che poi ne è scaturita, tutto il ricambio che c'è stato gli va riconosciuto. Cito sempre questa mia paziente che ha il fratello lì dentro lei mi ha scritto a me occorre provare cosa significa avere in casa un tossicodipendente che ti minaccia di morte che tu non lo riconosci più che prende un coltello e che minaccia di ammazzarsi e vuole ammazzare pure te. Lo porteresti ovunque. Certo. E lì nasce la delega no? Nasce la delega nasce il io non ce la faccio forse c'è qualcuno che può fare di più di me. Di sicuro nella mia esperienza Jacopo di terapeuta quello che vedo è che una infinita come tu dicevi no? Ci stedevamo sopra le persone c'era un contenimento col sorriso il contenimento quando uno è in uno stato di dipendenza così grave c'è una forte manipolazione sono bugiardi sono comunque la loro priorità è riuscire a farsi non è rispettare te quindi il contenimento va fatto di sicuro non un contenimento di quel tipo con le catene è anacronistico ed è anche disumano. Ma questo è assolutamente giusto quello che tu dici e secondo me è un grande problema della cultura progressista della cultura diciamo di sinistra non aver mai e della cultura cattolica progressista di non aver mai voluto affrontare questo tipo di problemi cioè io mi sono trovato con gente che mi minacciava di morte io sono stato preso a calci da un ragazzo perché voleva andare a farsi a Perugia e capisco benissimo la situazione di questa donna che si trova a essere minacciata dal fratello ti ammazzo se non mi dai i soldi per la droga ma lì c'è un problema di filosofia globale e di mancanza di strutture pubbliche cioè una persona che a quel livello lì deve essere presa portata con un TSO in ospedale ma poi ci deve essere un percorso è questo lo scontro che poi noi ci siamo trovati a fare cioè non è possibile pensare che le strutture di recupero siano anche delle strutture semicarcerarie gestite da privati in piena libertà e in piena con le catene ci sono altri modi ci sono diciamo ture di recupero che succede no scusami allora chiaramente lì Muccioli ha tappato un buco drammatico e da questo punto di vista probabilmente avrà anche ottenuto alcuni risultati positivi ma non è che se tu hai lo Stato che manca una sua funzione fondamentale non di punizione ma di contenimento ma contenimento cioè con delle celle perché imbottite pure perché se uno è pazzo è a livello tale che vuole uccidere la sorella se non gli dà i soldi per la droga chiaramente lì non c'è da fare la comunità shantir yoga soia un po' di risottini biologici eccetera eccetera c'è da portarlo in un posto e deve fare un percorso però che cosa facevano le asle ti pigliavano questa gente in situazioni pazzesche la disintossicavano un attimo ce le mandavano noi e poi noi avevamo cazzi acidi perché a differenza del gruppo di muccioli non pestavamo la gente quindi era veramente un incubo e nel momento in cui noi chiedavamo dei progetti integrati questi ci facevano le pernacchie Don Gallo ha resistito ma perché appunto è cristiano uno con sette palle partigiano aveva una capacità che ha dimostrato oggi ancora le sue strutture le sue comunità sono delle eccellenze vengono dal Giappone dal Canada a studiare la comunità di Alessandria creata da Don Gallo ma è un grossissimo problema che noi andiamo a toccare ed è chiaro che lo Stato se ne è fregato è che un certo buonismo è che lo stesso buonismo che ti porta che si lo mettiamo in galera però poi se fai il bravo lo facciamo uscire ed è un buonismo che è in combutta con la criminalità e con la corruzione perché alla fine in Italia tu se c'hai un buon avvocato bene o male esci esempio quel ragazzo che ha ammazzato a bastonate una guardia giurata a Napoli e dopo sei mesi era condannato non so a quanti anni però era già fuori perché è il suo compleanno vuoi non farlo uscire a mangiare la torta con la mamma ma cazzo ma questo ha ammazzato e abbiamo pieno di casi di gente che viene considerata guarita perché lo Stato in realtà ha paura a fare lo Stato poi li fai stare nelle celle nei manicomi che sono al di sotto della dignità di un essere umano è un grosso problema questo che affrontiamo ed è chiaro che Salvini ha buona voce a dire eh per fortuna che c'era lui sì ma cavolo ma come mai tutti quelli di destra non hanno fatto funzionare in Italia la pena certa come mai non si è distrutto il progetto poi dei manicomi no nell'apertura dei manicomi non era apertura dei manicomi liberi tutti voleva dire creare delle strutture di contenimento per quelli che avevano delle difficoltà ma togliere dal carcere a vita altra gente che invece si è dimostrato migliaia di persone poi hanno potuto essere assistite in maniera diversa di un carcere manicomio un carcere in manicomio è interessante quello che dici e mi fa riflettere su questa cosa Jacopo che in ogni sistema e noi siamo nei microsistemi nelle nostre famiglie ma anche lo Stato è un sistema esiste qualcosa che rimane stabile e qualcosa che subisce un cambiamento quello che tu mi stai confermando è che seppur la comunità san patrignano è cambiata il contenimento di un macrosistema più allargato che quello dello Stato è rimasto debole e questo tu l'hai proprio hai fatto debolissimo ed è centratissimo questo è e quindi quella figura del padre perché io torno sempre lì perché di questo mi occupo il padre Stato è sempre sfilacciato ha cambiato vestito ha cambiato epoca ma rimane il problema l'hai proprio detto tu il problema rimane quello cosa ne pensi Laria? no io assolutamente mi trovo mentre tu prima Jacopo parlavi mi continuava a venire in mente la figura del padre del padre del padre il padre non è solo chi ti mette al mondo lo Stato è un genitore è un padre e il nostro è contraddittorio è ambivalente è caotico a volte si lascia sfuggire delle cose molto gravi poi è assente e quindi i suoi figli noi ci sono dei figli che sono molto disciplinati e molto maturi ma il messaggio che arriva è quello di non essere visti quindi questo può accadere nel sistema più piccolo di una famiglia ma noi siamo figli di questo paese e di questo Stato e laddove c'è un buco c'è una sostituzione Doris volevi farci una domanda? sì prima aveva scritto infatti sì allora Daniel Perroco che conosci Jacopo ci dice in momenti Doris non ti si sente mi sentite? adesso sì adesso sì allora Daniel ci dice in momenti difficili ho cercato varie strutture per sostituirmi nel ruolo di genitore una di queste fu San Patrignano ho valutato ed analizzato il loro operato e la mia conclusione fu che mi serviva un San Matrignano bellissimo questo gioco di parole stupendo lo trovo veramente stupendo è vero perché non solo la figura del padre padrone schiacciante questo dio onnipotente il padre del vecchio testamento ma Muccioli lo prometteva a parole diceva facciamo le iniezioni d'amore e il pugno di ferro di fatto quello che poi dobbiamo osservare è la risultante perché questi ragazzi che gli si gettavano fra le braccia a me ha colpito tanto questo quelle immagini di quei ragazzi che gli si gettavano fra le braccia come se fosse l'ultima spiaggia una sete di padre salvami tu però come ogni dipendente affettivo da sostanza da un comportamento sappiamo benissimo che il recupero passa dall'assunzione di una responsabilità e lui lì continuando ad accentrare su se stesso sulla sua ascesa questo io credo che lì sia stato il fallimento del essersi pensato onnipotente non avendo avuto gli strumenti non avendo mai delegato o perlomeno in quello che è stato mostrato io non conosco tutta la e chiedo scusa se mi pronuncio su una cosa che è comunque parziale ma dall'impressione che ho avuto è mancato comunque una suddivisione dei compiti e mi piace molto questa questa osservazione di Daniel che anch'io conosco e che è l'assenza della madre la sostituzione di una madre che non può essere una madre troppo così permissiva perché chi ha un problema di dipendenza va la buon'uscita è un contenimento sufficientemente buono dove tu pian pianino ti assumi le tue responsabilità non posso abbracciarti fino a soffocarti non posso schiacciarti e incatenarti volevo mettere in luce un meccanismo che avevo notato come secondo me si evince da queste immagini poi mi direte anche voi se lo avete notato come se l'affetto fosse diventato un premio cioè ci ho visto un po' un ricatto sotto una manipolazione se sei bravo e allora ti abbraccerò ti loderò e ti anche in mezzo agli altri a un certo punto lui dice proprio io cammino nei campi nel podere e mi abbraccio le persone è difficile mettere insieme questa immagine con quello che punisce con quello che ha insomma degli atteggiamenti di coercizione e allora l'affetto diventa un premio se sarai bravo se sarai come io ti dico allora ti abbraccerò e ti bacerò e questo scusami se ti interrompo è sempre un rispecchiamento narcisistico non per fare delle diagnosi volanti però così è palese che tutta la faccenda in quel caso in quell'epoca era costruita intorno cioè questi questi ragazzi diventavano oggetti se se io ti tiro fuori dalla droga questo rispecchie fa luce a me e questo secondo me è la differenza tra le altre comunità che hai citato Jacopo e questa grande così questo questa priorità palese di questo capo capo branco no capo clan dove comunque era se tu esci e tutti ci illustriamo per fare lustro a a chi alla fine però io vorrei dire che se una persona vuole realmente aiutare gli altri deve anche non diventare quel tipo di figura cioè perché lì tu prendi potere sulla persona poi la persona avrà sempre bisogno di un sostitutivo del padre cioè una delle cose di cui io sono molto orgoglioso che dopo 40 anni che io ho fatto i corsi di yoga che avrei potuto diventare un guru ma l'ho chiamato yoga demenziale proprio per togliere il rischio che qualcuno mi idealizzasse dopo anni passati a lavorare con i criminali con i tossicomoni eccetera eccetera io sono riuscito a non creare nulla di questo chiaramente questo atteggiamento dal punto di vista sociale lo paghi Alcatraz è stata sabotata da tutti non ho mai avuto nessuno che contasse 4 lire che ci avesse appoggiato perché perché proprio ti manca cioè l'ideologia dello Stato che fosse la gente di sinistra di destra non cambia cioè noi abbiamo avuto per dopo la liberazione comunque un'ideologia paternalistica paterna autoritaria nel sistema per cui ti metto in carceri disgustose però se fai bravino ti faccio anche uscire no? Per cui per questo Muccioli è stato riconosciuto come simile dal potere e noi siamo stati riconosciuti come nemici e quello che proponavamo nei convegni ci sputavano in faccia e anche situazioni come quella di Don Gallo hanno pagato l'emarginazione in tutte le maniere possibili immaginabili però volevo sentire Doris perché visto che siamo in chiusura se c'è qualche altro intervento così diamo un attimo facciamo risposte veloci per dare voce al più possibile altre persone Maria Pia nel profilo perché stiamo andando in diretta anche sulla pagina della dottoressa di Amelia Canovi di Troppo Amore sulla pagina della dottoressa Ilaria Fontana nei commenti in diretta sulla pagina di Troppo Amore Maria Pia ci chiede Muccioli aveva disturbi narcisistici della personalità sta chiedendo alle due psicologhe secondo voi Muccioli aveva dei disturbi narcisistici? aveva dei comportamenti che fanno supporre delle tematiche narcisistiche ma come facciamo a dire io non me la sento Ilaria di dire di bollare di sicuro abbiamo appena detto questa cosa Doris che trattare questi ragazzi come oggetti se è perché comunque la sua comunità doveva brillare più delle altre a tutti i costi no Jacopo e quindi pagando cioè usando dei metodi ma questo allora quindi non lo so e beh le diagnosi non si lanciano mai così come se fossero dei foglietti di carta che non hanno un peso quindi bisogna sempre stare attenti per fare una diagnosi bisogna vedere una persona anche più di una volta e approfondire delle tematiche quindi ora non è il nostro caso però sicuramente come diceva Meglia ci sono dei comportamenti che lui ha avuto che lasciano tanto pensare e su questo mi aggancio anche a quello che dicevi tu Jacopo prima tu hai detto io non mi sono reso indispensabile per queste persone ma perché per te evidentemente non era importante avere il monopolio su quella persona per te era importante che quella persona apprendesse dei mezzi un'altra strategia di vita che fosse tuttana e quindi lì c'è un gesto di altruismo di amore altruistico un personaggio una persona che si accerchia di fama che gli piace diciamo passare tra la folla e essere acclamato e che tiene per sé il segreto della salvezza no? ma mette bene come dire delle regole di punizione e di merito è una persona molto diversa io ho iniziato dicendo proprio chi sa lui che cosa cercava in questo c'è piuttosto chiaro cosa cercassero le persone che avevano bisogno e che erano intrappolate nella sabbia mobile della dipendenza ma io credo che anche lui questo l'ho detto fino all'inizio ne avesse un gran bisogno un bisogno di essere cercato un bisogno di essere visto come quel padre che salva perché diciamoci la verità gli occhi brillanti dei figli che dicono ah tu sì che sei arrivato a salvarmi possono essere molto gratificanti per una certa tipologia di personalità tiziano altre domande sì 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 tiziano ci dice si può blablare e filosofeggiare a oltranza ma i fatti concreti dicono che Muccioli ha salvato migliaia di vite umane ed evidentemente ha anche seminato bene perché la comunità attuale sta andando avanti in un modo alquanto efficace e positivo e portando avanti da operatori quasi tutti ex tossicodipendenti che hanno fatto loro stesso il percorso a fianco a Muccioli e conclude dicendo c'è chi bla bla e c'è chi si rimbocca le maniche vedete voi attenzione non stiamo qui a distruggere qualche cosa senza salvare niente l'abbiamo detto non è questo il nostro scopo da questo commento mi sembra che siamo noi quelli che facciamo bla bla allora non credo che era questo il nostro intento sicuramente la comunità continua a essere efficace in piedi e benvenga che lavori bene sicuramente lui avrà piantato dei semi che fortunatamente hanno dato dei frutti meno male allo stesso tempo io non credo che il fine giustifichi i mezzi sempre e comunque insomma io vorrei dire a questa persona ah bla 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 te lo fai te perché io ci ho lavorato anni con la tossicodipendenza quindi non ti sto dicendo delle stronzate filosofiche ti dico della roba che ho sofferto sulla mia pelle punto primo punto secondo attenzione perché il tuo obiettivo è avere uno che smette di farsi di eroina e va avanti a tranquillanti antidepressivi e alcol perché questo è il discorso cioè rendiamoci conto che con quel meccanismo lì non si fa uscire la gente da nessun tipo di dipendenza sposti il malanno altro discorso è quello che succede oggi a San Patrignano anche io credo che proprio perché alla fine bene o male lo Stato l'opinione pubblica il casino che abbiamo scatenato io in prima persona quando c'era cuore contro questi crimini avrà portato delle persone a riflettere perché viva Dio l'essere umano secondo me potenzialmente è buono il principio generale non era scorretto e non l'ha inventato Muccioli cioè ti porto in un posto in mezzo alla natura dove lavori dove fai delle attività artistiche dove ti occupi dei cavalli addirittura vai a fare le corse eccetera eccetera cioè ti do una possibilità di appassionarti e questa possibilità di appassionarti ti guarisce questo siamo d'accordo tutti che funziona quello che stiamo discutendo è su un pezzettino cioè torture alcuni morti botte da orvi e stupri e questo non mi puoi dire abbiamo salvato tanta gente perché ne abbiamo stuprate tante di donne e di maschietti ok perché poi lì ci sarebbe rapito tutto un capitolo di cui poco si occupa il documentario ma comunque lasciamo perdere ma il discorso cos'è è che da questo punto di vista elogio dei figli io credo che il figlio di Muccioli abbia sofferto le pene dell'inferno si sia reso conto che proprio non era tutto perfetto e probabilmente ha dato una sterzata al sistema ma comunque è uscito è uscito dalla storia del padre perché viva Dio ci sono dei figli che riescono a andare laddove i padri non sono arrivati il figlio di Muccioli non mi sembra assolutamente uno che si presenta come una divinità come uno impositore delle mani eccetera eccetera scusate però sui numeri per fare per non fare bla 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 dovremmo fare una cosa che non possiamo fare cioè confrontare i risultati delle comunità tipo Muccioli vecchia maniera e delle altre tipo di comunità cioè noi abbiamo delle esperienze in Norvegia in Svezia in Danimarca negli Stati Uniti straordinarie che hanno portato realmente a una ricomposizione della personalità quindi non è che c'è o Muccioli o niente abbiamo detto Don Gallo ma andiamoci a studiare comunità che poi hanno fatto degli studi affidati a enti terzi sull'efficacia e io sono sicuro che se andiamo a confrontare questi e facciamo una seria valutazione di quelli che si sono salvati sì ok sono vivi ma attenzione essere vivi non è il nostro obiettivo il nostro obiettivo è essere vivi essere degli esseri umani che sono cresciuti e si sono sviluppati pienamente quindi carissimo il bla bla lo stai facendo te e scusatemi io non ho abitudine di incazzarmi durante le trasmissioni ma voglio dire forse non hai ascoltato quello che abbiamo detto e sicuramente non hai visto il documentario perché se tu pensi che con le barre elettriche per spostare i maiali si possa guarire uno dalla tossicodipendenza stai facendo un gran bla bla e non sai un cazzo di queste cose ecco a meia faccio sentire un attimo il tuo parere così poi salutiamo osservo ascoltavo rapita Jacopo che si è appassionato di questo argomento perché proprio l'ha vissuto e quindi vedi che ho avuto ragione di coinvolgervi in quanto persone insomma calde sul tema tornando a per trovare una chiusa credo che a ritroso guardate da lontano le cose possono insegnarci qualcosa e anche in quale direzione guardare quindi io sono d'accordo con quanto ha detto Ilaria prima cioè il dare e anche Jacopo il dare una dignità ciò che ti porta fuori da una dipendenza ma anche da una persona perché questo è il mio tema quotidiano io quando parlo di dignità le mie pazienti mi guardano come se non conoscessero questa casella e io credo che chi si appoggia a una dipendenza qualunque debba riappropriarsi di una dignità quello che abbiamo visto in questo documentario molte volte la dignità la toglieva per ignoranza per metodi rudimentali per inesperienza o per l'accentramento in una sola persona in un suo disegno così possiamo anche dire megalomane che però portava sì fuori da una tossicodipendenza ma non curava tutti quegli altri aspetti la cosa buona è che nel tempo abbiamo capito che sono necessarie è necessario salvaguardare la dignità della persona ridargli un contatto con la propria creatività e tu Jacopo credo che ad Alcatraz abbia espresso questo in maniera esemplare perché era tutto un'espressione di una creatività costante e continua di una ricerca e quindi prendiamo atto che quello è stato un episodio un pezzettino di una storia italiana un inizio e portiamo avanti le nostre riflessioni mantenendo attivi tutte le uno sguardo globale complesso bene ci sono altre ci sono altre domande Doris più che grande c'è Tiziana che vuole ricordare questa sera con uno scritto sulle streghe che non sto a leggere perché è lunghissimo che è semplicemente concluso sono perché eroghese non ti si sente Doris non ti sentiamo la tua voce vale viene sì ok proviamo così sì così stavo dicendo che Tiziana invece vuole ricordare nella giornata di oggi visto che siamo nell'epifania ha postato una cosa di tua madre sulle streghe che non sto a leggere perché è lunghissimo e leggo solo l'ultima frase che dice sono strega perché i roghi esistono ancora io prima o poi potrei finirci dentro facciamo attenzione i roghi esistono ancora e direi che questa sera abbiamo parlato di un bel fuoco che ha divampato e e si è trasformato in qualcosa cosa ne dite eh beh sì direi di sì è molto tra l'altro si collega a tantissime tematiche quindi io credo che anche chi ci ha sentito chi ha commentato probabilmente si è sentito scosso da tanti aspetti ehm crede anzi credo che rimarranno anche nella mente per un po' Perfetto Bene allora io vorrei ringraziare Ilaria Fontana e eh Amelia Canovi e Doris Corsini che è la nostra filosofa di riferimento nonché regista ecco questa storia della filosofa mi stai rovinando eh Doris eh uno è arrivato a una certa età non hai più diciotto anni eh sei in grado di reggere la verità di quello che tu rappresenti per tutta la collettività che ti vive intorno non sai che sei un punto di riferimento poi puoi fa finta di niente però sappiate che grazie a Doris il parmigiano origine di montagna è diventato una cultura cioè perché Doris spazia dal tossicodipendente al contadino che fa alla mucca lei quando lei va nelle stalle aumenta la produttività di latte la qualità migliore rovinata Doris mi dispiace che prendevi in giro per i prossimi quindici anni no e poi tra l'altro Doris si sta preparando a invadere la Cina perché sta studiando il cinese è vero sì è vero vuole diventare una novella confucio e dare finalmente dei messaggi costruttivi ai cinesi che escono da questa epoca un po' di casino in cui si trovano brava Doris brava Doris come vedi anche se tu non vuoi comparire e ti rendi invisibile non hai speranze di esserlo xiao xiao per adesso ho imparato indispensabile indispensabile la Doris indispensabile grazie buonanotte grazie al padrone di casa Amelia voglio un commento finale di Amelia un secondo ti è piaciuto questa serata mi è piaciuta mi ha dato spunti di riflessione ricordo una cosa prima di pronunciarci su qualunque tema guardiamo osserviamo con un occhio umile con un occhio non diciamo non ho visto il film ma non ho letto il libro ma ma io ho sentito Jacopo che tu questa sera hai parlato di un qualcosa che tu hai vissuto dentro di te e quindi ha un valore per me che ti ho ascoltato un valore aggiunto mi piace molto l'attitudine di approcciarsi alle cose con una umiltà un guardare con rispetto alle cose va bene questa è una frecciata perché noi non volevo guardare la serie sei il tuo senso di dominio sulla realtà è soddisfatto l'abbiamo vista l'abbiamo vista e anche interrogarci abbiamo anche discusso dopo averla vista comunque niente io vorrei ricordare che stiamo conducendo una inchiesta una statistica ed è provato che le persone che hanno visto una nostra trasmissione e l'hanno gradita e non l'hanno condivisa non hanno la stessa vita di quelli invece che hanno condiviso perché condividere i lunedì psicologici che avvengono di mercoledì e anche di giovedì ricordo che domani sera ci colleghiamo con la dottoressa Fabrizio una veramente una grande Maria Ernestina Fabrizio ripeti Maria Ernestina Fabrizio ok domani sera alle nove altro collegamento questa è una settimana di fuoco perché inizia l'anno vogliamo darvi degli strumenti fantastici un bacio a tutti grazie Doris grazie 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 a meia vi voglio bene buon anno a tutti buone riflessioni buon anno a tutti